Buongiorno e benvenuti all'ETG Express del Junso di giugno del 2008 solo meso manco la 2.25 Saluti gli amici catalans Sigla Onoranze funebre e rompura Discrezione, professionalità, rispetto e dedizione Joan Elias Adel Pitarch, nominato direttore dell'Istituzione delle Letras Cataranas Prendo posto di Laura Borras, attuale consigliera della cultura della Generalità in Spagna, in Catalunia Joan Adel, poeta filoleg, era responsabile fin dal narale del 2017 dell'Office della Delegazione del Governo Catarano all'Alghè Coordinarò delle attività sui culturali e linguistiche e in questo momento l'Alghè è senza rappresentanza Grazie a Joan per il lavoro svolgito all'Alghè, ho lasciato un buon racconto Prorogato fino al 15 giugno del 2018 il termine per l'iscrizione alla Scuola di Formazione Aquacultura Dura cinque dies lo corso, se farà nell'asseo di Potti Conta ricerche del Potti Conta racièlico Nel mese di giurio, onza, l'ensegnante esperte del mondo académico e della produzione industriale S'attangarà le lezioni frontali, le lezioni pratiche, visite ai impianti di produzione e ai laboratori Onza analizza la qualità dei mangini e i prodotti ITTITS Ancontra, fin dal 15 giugno del 2018 l'uterno per l'inscrizione Paldunauma, Paldunauma Ancontra, l'Alghè amal territori, arti, diritti e economia giornale mondiale contro il sfruttamento del trabalho minorale Appuntamenti nella Sara Conferenzia Slocualtè di Mals 12 di giugno a Rassis di Ratalda Tema, sviluppi sostenibili Al mostra, la terra di Pinocchio Grillo Parlante dove sei? Presenza, il sindico Mario Bruno, moderarò Gianni Garruccio Intervenzi di Gianni Rosas, direttore per l'Italia, organizzazione internazionale del trabalho Paolo Onaldini, direttore di Città dell'Arte Domenico Norsona, direttore del Camaster Università di Sassar Silvia Serrelli, planificazione urbanistica Maria Gabriella Lai, del Terzo Paradiso Rappresentanti del gruppo di Trabal, del workshop di Cittadella di Biella Araveo alla regia e legatori mandiretta La nostra frutta parla da sola Farinelli Fresco Market La Coral Nova Alghè presenta la De Witte di Sio Rassegna Canti Coral a Lavora della Mar Dissatta a Sedza di Giun 2018 Arazuiti Miggia della Talda Al Teatro Municipale Gavì Balero all'Alghè Conselta, ma la Coral Algarese Dirigi lo direttore Gian Cristian Cherchi La Coral Caravelle de Moletti de Valè Direttore Raffaele Montanerbo Brugarols La Coral Son de Balzaron Direttore Enric Azzuaga L'entrara è Sliura Com s'heu mirant, escoltant, arrea de les mie espatlles I és la Llaguna del Càlic A dies, a dies parlarem S'haurien d'anar a parlar Amb interessants experts De la situació de la Llaguna del Càlic Que mos pareix, en aquest cas Que ara és propi un estant Per questa vostra generació Informació Preguntas Mous pugui contattar la pagina Facebook Ed Algaro Channel Ambos viula!